Non ho sempre voluto essere padre, la mia famiglia faceva schifo e ho scoperto che volevo una famiglia solo dopo aver incontrato tua madre. Ed è la cosa più bella che ho, mi avete riempito, avete dato un senso alla mia vita. E mi avete reso uomo. Ti sembrerà impossibile, ma quel bambino sarà la cosa più bella della tua vita. Sarà la cosa più bella per te e per il padre. Noi uomini non siamo perfetti. Ma se ci date la possibilità, possiamo imparare. È che io ho paura. Ho tantissima paura. Lo so.